Non si fa altro che parlare in queste ore di Imane Khalif, una donna iperandrogina al torneo di pugilato nella categoria di 66 kg dei pesi welter delle Olimpiadi di Parigi. Senza però rendersi conto che questo non è un caso contro natura, anzi dovrebbe essere il caso per spiegare ciò che è davvero naturale e dovrebbe essere preso come opportunità per iniziare a parlare del fatto che due soli sessi non sono più sufficienti per la biologia. La biologia è un modello inclusivo che abbraccia le differenze, le crea invece di negarle e che parla di una relazione, quella tra geni e ambiente. Tutto il resto è costruito da noi. Ho deciso di fare questo video perché io sono scioccata, scioccata dalla situazione. Alcuni commenti rischiano di rovinare la vita lavorativa e personale di Imane. E tutto questo solo per alcune caratteristiche sessuali comuni a 160 milioni di persone che quindi tutto sono tranne che anormali. Questo è molto grave soprattutto perché in passato altre atlete e non solo hanno subito delle ingiustizie simili. Però la questione era stata risolta nel 2000 e ora 24 anni dopo stiamo ancora creando uno scandalo su qualcosa che la scienza, anche nel contesto olimpico, ha già chiarito. Vediamo che cosa dice realmente la biologia. Prima di parlarvi del caso, però, da etologa, voglio fare un inciso che è importantissimo. Sesso e genere sono due cose ben distinte. Cioè, mentre il sesso maschio-femmina è un fattore biologico, il genere, ovvero uomo-donna, non esiste tra le altre specie animali. L'abbiamo inventato noi esseri umani per classificare come quell'individuo deve essere trattato e considerato all'interno di un contesto sociale. Quindi il genere è socialmente costruito, come diceva la mia amata Simone de Beauvoir, e non ha a che fare con la biologia. Quindi io non prenderò in considerazione il genere, ma unicamente il sesso. Quindi parliamo del caso. Allora, Imane è stata esclusa, esclusa dagli ultimi mondiali, per i livelli elevati di testosterone. E secondo l'International Boxing Association, per la presenza di cromosomi del sesso biologico maschile, ovvero i cromosomi XY del DNA. Però Imane non ha mai cambiato sesso, pertanto definirla un transgender è assolutamente scorretto. La domanda magari potrebbe essere, ok, ma allora come si spiega che abbia i cromosomi tipicamente maschili XY e elevati livelli di testosterone? L'1,7% della popolazione mondiale non rientra nella classificazione dicotomica maschio-femmina, ma presenta le caratteristiche di entrambi i sessi, diciamo intermedie. L'1,7% della popolazione mondiale, ragazzi, è tantissimo. Stiamo parlando di circa 136 milioni di persone, una persona ogni 60 all'incirca ha un sesso alternativo, così mi piace chiamarlo. Caratteristiche che per gli esseri umani sono anomale, ma che per il resto del regno animale sono la regola. La biologia mostra chiaramente che la classificazione femmina e maschio non è sempre così netta. Ribadisco, questa è una convenzione che ci siamo imposti da soli, siamo noi che rimaniamo fossilizzati sull'idea che il sesso sia solo maschio e femmina. E non sappiamo che la natura è molto, ma molto più varia di come la immaginiamo. Nel regno animale accade di tutto e di più. Ci sono animali che cambiano sesso durante la propria esistenza, per esempio alcuni pesci. Alcuni pesci vivono metà della loro vita da maschio e metà della loro vita da femmine. O a un certo punto invertono il loro sesso acquisendo le capacità riproduttive del sesso opposto. L'orata. L'orata è uno di questi. Nasce maschio e diventa femmina dopo due anni. Ci sono anche animali che restano isolati, no? E quindi rimanendo isolati, avendo poche possibilità di incrociare un partner del stesso opposto, ricorrono all'autofecondazione. Quindi non hanno più bisogno di un partner, no? Come il pesce shiranno e i serranidi. Altri pesci persino si travestono. Si travestono. Qualche maschio ingrossa i propri testicoli in modo da far risultare il suo addome rigonfio come quello di una femmina gravida. Io lo giuro. Lo giuro. E lo fanno per entrare nel nido delle femmine e deporre il loro sperma. Ancora, i rospi maschi presentano, oltre che ai testicoli, anche una forma accennata di ovaia. Che però, se il maschio viene castrato, quest'ovaia matura e l'individuo diventa femmina. Una femmina fertile in grado di produrre dei girini. Non lo so, potrei farvi altri mille esempi per dimostrarvi che non è naturale che un organismo vivente debba essere necessariamente femmina o maschio. E che possa tranquillamente essere anche entrambi. La letteratura, in merito, mostra che queste forme, diciamo, ambigue di sesso, ambigue, non lo sono. Non lo sono. E a seconda della specie, il fenomeno può poi coinvolgere o l'intera popolazione, oppure limitarsi solamente ad alcuni suoi esemplari. Quindi, torniamo al nostro caso, imane e ermafrodita. E che cosa vuole dire essere iperandrogina? Vi spiego un attimo. Allora, estrogeni e androgeni, questi ormoni, sono presenti in entrambi i sessi, solamente che sono percentuali diverse. Anche i maschi hanno gli estrogeni, che sono gli ormoni che solitamente vengono definiti come femminili. Perché, infatti, sia gli androgeni che gli estrogeni derivano addirittura dallo stesso prodotto di partenza, l'androstenedione, che poi, tramite dei processi chimici, viene convertito in estrogeni e androgeni. Per questo motivo, basare tutte le nostre classificazioni sugli ormoni, a volte può essere fuorviante. Tant'è che il caso di imane non è l'unico, ma è solo l'ultimo di una lunghissima serie. Tutto quello di cui si sta discutendo in queste ultime ore con i mane, è già avvenuto in passato. Uno dei casi più eclatanti è stato quello di Maria José Martínez Patigno, specialista nella corsa ad ostacoli, alla quale venne impedito di partecipare ai mondiali universitari di Kobe nel 1985. Fu squalificata per le stesse ragioni che ora riguardano i mane. E Martínez Patigno non superò il test di femminilità, che all'epoca era basato proprio sui cromosomi. Prima ancora dei cromosomi erano praticati dei test terribili come sfilare nude davanti alla commissione. Però comunque, che cosa vuole dire test cromosomici? Che se avevi il cromosoma XX eri considerata femmina e se avevi il cromosoma XY eri considerata maschio. E Maria José apprese solamente dopo questo test di essere dotata di un cromosoma XY, che è quello che dovrebbe determinare il sesso maschile. E questa scoperta la sconvolse, sconvolse l'atleta, la quale si era sempre sentita femmina. E come tale, fino ad allora, era stata così riconosciuta anche da tutti gli altri. E questa rivelazione ebbe delle conseguenze drammatiche sulla sua vita. Lei fu squalificata, spogliata di alcune medaglie, le fu proibito di gareggiare con la squadra femminile e le fu revocate la borsa di studio per praticare la sua disciplina. Inoltre, come se non bastasse, ebbe anche fine la relazione con il suo compagno. Ma quella di Martinez Patino è semplicemente una sindrome, che viene chiamata sindrome da insensibilità agli androgeni, e non è una malattia. È una condizione in cui una persona con organi genitali femminili, e quindi di fatto una femmina, può avere dei cromosomi XY e dei testicoli interni che producono effettivamente degli ormoni maschili. Tuttavia, però, questi ormoni che causano questi testicoli interni non causano lo sviluppo delle caratteristiche maschili. Quindi non c'è dubbio che si tratti di una femmina, perché gli organi genitali esterni si sviluppano perfettamente come quelli femminili. E ci sono voluti anni, ma anni di lunghe battaglie legali, l'intervento di diverse autorità mediche, prima che Martinez Patino potesse essere reintegrata nella squadra femminile di atletica, e reidentificata anche come atleta di sesso femminile. Nel 2000, il Comitato Olimpico abbandonò il criterio cromosomico per stabilire se un atleta fosse maschio o femmina. Però da questa storia, l'Italia, sembra non avere imparato assolutamente nulla. E nonostante la scienza abbia già constatato che non ci sia nulla da esprimere in merito, noi comunque vogliamo rovinare la vita di una persona nonostante i suoi sforzi, la sua fatica, il suo impegno, tutto l'impegno che ha messo, come tutte le altre atlete, per arrivare dov'è. Per alcune culture ci sono solamente due possibilità, o maschio o femmina. E vogliamo stare talmente tanto dentro queste etichette che si compiono anche delle operazioni molto invasive sui neonati. Cioè, i bambini che nascono con delle forme alternative di sesso, non patologiche, subiscono in alcuni luoghi ancora degli interventi che possono avere delle varie conseguenze in età adulta, come ad esempio l'impossibilità di provare piacere sessuale. E quindi negli ultimi anni sono state fondate delle associazioni che rivendicano i diritti delle persone intersessuali e chiedono che sia lasciata poi a loro la libertà di scelta quando poi diventeranno adulti. Data la presenza di diverse forme sessuali nel mondo, è stata avanzata la proposta di riconoscere non solo due, ma cinque sessi. Cinque! Questo significherebbe aggiungere tre categorie. Un'ermafrodita standard, uno più vicino al femminile e uno invece più vicino al maschile. In questo modo non si imporrebbe una scelta tra solo i due sessi, che non è universale, come possiamo ben vedere. Però non tutte le culture accettano diverse possibilità sessuali, per via delle tradizioni, per via delle norme sociali, per le abitudini locali. Tuttavia questo però non giustifica la negazione dei diritti e delle opportunità per un sesso rispetto all'altro. In Italia, purtroppo, ancora una volta, noi non abbiamo abbracciato le svariate possibilità della biologia. Anzi, anzi, il dibattito si è scatenato proprio nel momento in cui Imane ha combattuto contro una pugile italiana. Qualche politico ha fatto leva proprio sulle convenzioni che ci siamo imposti con affermazioni alquanto opinabili, dicendo che Imane avrebbe potuto avere, per questa sua condizione, una sorta di vantaggio sulle altre concorrenti che rendeva la gara non equa. Tuttavia, tuttavia, la scienza, anche a livello olimpico, ha già dimostrato che così non è. Trovo che l'idea di creare delle disuguaglianze di diritti e di opportunità, dicendo che è la natura a crearle, quando non è così, sia inaccettabile. Io spero che lo supereremo presso. Alla fine, si tratta di rispetto reciproco, riconoscendo che non è necessario essere identici per essere uguali. e questo vale anche per le ingiustizie che subiscono tutti gli altri esseri viventi.